Ciao ragazzi, sono Randellone e oggi siamo tornati su Destiny, che purtroppo so che è da qualche giorno che non fa video, ma ho avuto problemi con la connessione, infatti anche Destiny non mi faceva l'aggiornamento. Vabbè, a parte di tutto, andiamo a vedere di cosa tratta questo aggiornamento, quindi, nuova impresa, ok, filiamo tutte le taglie, ok Varix finalmente, vediamo un po'. Completa la missione, prezendente al trono, ok, la faremo dopo, completa la prisione dei due anziani al 41, mmm, sarà molto difficile, a che serve? Il livello 40, reti corrotti? 100. Ok, filiamolo, se ne frega, ok, filiamo tutta sta merda, poi vediamo cosa vuole questo strunzo, quindi, niente, bene. Guardiamo qua se c'è qualcosa, ah, hanno aggiunto il nuovo coso, ecco sì, le motte, lo dicevano, no, cavolo, mi ricordo comprare quella roba da 200, potevo comprarci questo, accidente. Vabbè, e guardiamo questo, ok, quindi direi che ci vediamo a fare la prima missione di questo nuovo aggiornamento, fra ora, insomma, io ora facerò, ovviamente, farò un bel taglio, quindi ci rivedremo dopo, ciao. Ciao ragazzi, siamo tornati finalmente, siamo qui per iniziare questa missione, appunto, pretendente al trono, iniziamola subito, ok, bene, vediamo un po' di cosa si tratta. Allora, probabilmente ora parlerà qualcuno, quindi sto zitto, eh. E' morto, corrotti sono scatenati, vogliono riclamare trono. Credevo che uccidendo Oryx si sarebbero calmati, invece abbiamo creato un vuoto di potere. Ok. Corruzione è forte qui, insorge nuovo comandante, Brama, potere di Oryx. Come se non ce ne fosse già bastato uno, direi dei corrotti. Quindi, c'è un nuovo comandante, da quel che ho capito. Un altro figlio di puttana, quindi... Vediamo di cosa si tratta questa missione. Poi, più avanti, ovviamente, vi porterò anche altre missioni. Ora, in questo video, vedrete solo questa, ma credo comunque sia abbastanza lunga. Allora. Comandante, sono prudenti. Si nascondono. Ho l'impressione che non sarà un problema. Co... No. Io non gioco Destiny dal mio ultimo video, ragazzi. Quindi... Ok. No, 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 non sono caduto di sotto. Brutti bastardi. Vabbè, sono al 36, easy, dai. Cazzo. Oh, e mori. Principe corrotto. Ah, ma è chiuso qua. Il telesto... Forse... Dopo quel calanotte che ho fatto nel video, C'è giocato per un altro calanotte e ho droppato questo telesto. Vabbè. Parte questo. Che cazzo è, oh! Satana! Catturalo. Con quale Pokéball? Lui ti bastarti. No, oh, oh, oh! Lo vuoi vivo? Ma che ne ha fatto il tuo... Uccidete o sarete uccisi? Porca troia, ragazzi! Non ero preparato per questo. Ora... Si duplicano, non li ammazzo in fretta, non li sti bastardi. Guardate come si... E muori. Forse sprecare così le munizioni contro le palle giganti non è la cosa più logica che abbiamo mai fatto, però... L'importanza. Dai, dai! Oh, hard goblin di merda! Non mi ricordo di che cosa ho la classe. Meno male, dai! Ma non mi fa un cazzo! No, cazzo! Forse non dovevo farla da solo. Ho preferito farla da solo, però forse... Se non ce la dovessi fare, chiamo qualche mio amico. Ok, ok, ok. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, ma dai, ragazzi, fanno schifo questi nemici, non mi devo... Anzi, ha così, dai. Una stronzata. Ok. Va bene. Ma non mi fa niente, non so se è normale. Già due ragiate non gli ho tolto quasi niente. Vabbè, spero si mora più velocemente dopo. Ci diamo velocemente questi stronzi, se no si duplicano all'infinito. Porca trono. C'ho voglia di morire, eh. Porca troia. Vieni fuori. Porca troia, hanno tutti un goccio di vita. Ora come il minimo si rifà nello scudo e lo piglio in culo. Vieni fuori. Madonna, oh. Mori. Mi ha fatto un cazzo, è bello. Vabbè. Sta scappando. No. Quando Preda scappa, noi inseguiamo. Corrotti, costudiscono suo ego. Cioè, è già finita. In un certo senso sono anche contento. Meno male, dai. Quindi, ora andiamo a vedere come continua l'impresa. se riuscisse a salire. Vabbè, tanto ora finisce. Ah, bene. 40 uccisioni, 19 uccisioni precise. Niente, ovviamente, come ricompensa. Allora. Forse, comunque, invece di usare il fucile a fusione, potevo usare anche un cecchino, eh. Ora ci penso, però... Vabbè. Allora, vediamo come si deve continuare la missione. Vabbè, qui ci andremo dopo. Sulla torre lo devo andare? Aspettate, eh. Imprese. Ok. Uccidi i corrotti ovunque si trovano e trovo indizioni di usare. Ok, questo ci penseremo poi più tardi, con i miei prossimi video. Oppure vi farò vedere solo prigioni degli anziani, oppure semplicemente missioni e assalti. Comunque spero che questo dir sì, questo aggiornamento, vi sia piaciuto. In tal caso, commentate, iscrivetevi. E noi ci si rivede al prossimo video. Ciao! E noi ci si rivede al prossimo video.